Il Villa 2015, reduce dalla sconfitta interna con il Capistrello, vuole tenere accesa la luce della speranza, nonostante l'ultima posizione, e i soli 5 punti all'attivo nel girone di andata. Il Montesilvano invece viene dalla sconfitta con il Lanciano per 2-0. Mister Antignani però non fa drammi e può esultare per il ritorno in verde oro del bomber Mario Petito. All'undicesimo arriva il primo episodio degno di nota. Majorani sfrutta un'indecisione difensiva, ma Gian Giacomo è attento e si oppone. Al ventesimo si sblocca il match. Majorani crossa al centro dalla destra, nessuno devia e la palla si insacca alle spalle di Gian Giacomo. Il gol è del numero 11. Alla mezz'ora, punizione dalla destra, mischia in area, la sfera arriva sui piedi di Leonardo Malocu, che spedisce alto. Al quarantunesimo è pericoloso il Villa. Azione confusa in area, Ubertini si lancia sui piedi di Frattini ed evita il peggio. Si va al riposo sullo 0-1. Con le riprese di mano il centurame passiamo al secondo tempo. Al sesto l'incontenibile Majorani si gira benissimo dal limite. La palla colpisce il palo e si perde sul fondo. Sull'altro versante tiro cross di Barbone. Prova a deviare Gian Pietro, ma non inquadra la porta. Al ventesimo Majorani crossa dalla sinistra. Gian Giacomo è miracoloso e tiene in vita il Villa. Prima sull'incornata di Marrone e poi sul tiro a bottasicura di Petito. Al ventisettesimo Petito in un contrasto con Gian Giacomo va a terra in area. Per il signor Gaetano Alessio Buonasera di Enna non ci sono gli estremi per il penalty. Alla mezz'ora arriva il pari del Villa, con un gol rocambolesco di Tacchi che vince un rimpallo con Ubertini e la palla si accomoda in fondo alla rete. Reagisce il Montesilvano e al quarantaduesimo Lupinetti serve Petito. Gian Giacomo respinge, ma subito dopo il numero 9 realizza una rete pazzesca in rovesciata. Da vedere e rivedere. Si riversa in avanti il Villa. La punizione di Dincecco finisce alta. Finisce così a Francavilla. Il Montesilvano batte il Villa 2015 per 2 a 1.